Pietro Gradenigo che nasce a Venezia è stato da un punto di vista della sua carriera professionale professore di oftalmologia in questa università verso la fine dell'ottocento. In realtà la sua carriera è un po più complessa e come uomo lo ricordiamo sempre viene ricordato sia pure non in maniera dettagliata nelle diverse biografie perché se uno digita Pietro Gradenigo in Wikipedia trova un altro. Trova un Pietro Gradenigo di sei secoli prima però capisce la famiglia da cui veniva Pietro Gradenigo. La famiglia dei Gradenigo era una delle più importanti nobili antiche famiglie veneziane. Faceva parte infatti delle cosiddette famiglie apostoliche cioè i dodici nobili che è l'essere il primo doge di Venezia. Quindi si porta dietro una lunghissima tradizione. Giovanissimo da studente viene naturalmente per studiare medicina a Padova pur non dimenticando che Venezia non era sede universitaria ma aveva una specie di scuola medica o delle scuole mediche. Fa l'università, si laurea in medicina, inizia anche collateralmente la professione. Allora non esisteva una specializzazione formale in oculistica o oftalmologia che meglio dir si voglia e quindi Pietro Gradenigo sta con l'allora professore di oftalmologia che era il Gioppi che viene quindi il suo maestro ma poi torna a Venezia. Torna a Venezia e si è pure molto giovane diventa, come si diceva allora, ormai si è perso la terminologia, primario oculista dell'ospedale San Giovanni Paolo, il principale, dove c'era anche tra virgolette una scuola di oftalmologia, cioè era come si direbbe oggi un ospedale di insegnamento. È chiaro però che il personaggio, le sue capacità intellettuali, il suo importante fervore scientifico e pratico lo portano poi a diventare professore di oftalmologia in questa università, l'Università di Padova, alla morte del Gioppi. E comincia forse da allora il punto di svolta della oculistica patadina, se vogliamo, da un punto di vista clinico e dal punto di vista del suo rilievo in ambito non solo italiano ma anche diremmo internazionale. Perché dico italiano? Perché in realtà noi quest'anno, 2019, celebriamo i 150 anni della nascita della Società Scientifica di Oftalmologia, che si chiama Società Oftalmologica Italiana, che è la prima società scientifica specialistica, chiamiamo così, del nostro paese. Tra i soci fondatori non c'è Pietro Gradenico, ma tra i primi presidenti c'è Pietro Gradenico, che quindi sapeva imporsi con la sua personalità nell'ambito oftalmologico italiano e ricordo che allora, insomma, le università cosiddette primarie per la medicina erano pochissime, tra cui Padova, Pavia, ne ricordo due, Torino. Ecco, l'Università di là non manco esisteva. Pietro Gradenico quindi ha tutta una serie di collegamenti in ambito nazionale e internazionale. Quindi mantiene quel livello scientifico elevato che è tipico della medicina in particolare di fine Ottocento, che è anche la medicina nella quale meglio si sviluppano e si caratterizzano tutte le cosiddette specialità mediche. Sappiamo tutti storicamente che il centro propulsore delle specialità mediche, così come le conosciamo oggi, era allora Vienna. E ricordo anche che Padova, diciamo, era stata austro-ungarica fino a pochi anni prima. Qual è la peculiarità, però, se vogliamo, del Gradenico, oltre alla sua storia familiare, condurrà tutta la sua vita a Padova, morirà a Padova, e lo succederanno due allievi di cui magari intercaliamo due piccole notiziole perché sono interessanti. è, vorrei dire, era sì scienziato, ma anche artigiano. Per chi pratica una professione come quella dell'oftalmologo sa che è un fortunato nella medicina perché l'oftalmologia è una specialità medica, vogliamo dire anche una scienza, di confine in che senso? Va, di confine perché l'occhio è lì, dentro l'orbita. Quindi è di per sé un territorio di confine. L'occhio è un pezzo del nostro cervello portato fuori, embriologicamente parlando. Quindi è, vabbè, banale, lo dicono tutti, serve a vedere. Chiaro, ma vedere è qualche cosa che fa il cervello, non che fa il resto dell'occhio. Quindi ricordiamocelo. E poi ricordiamo che, con tutto il rispetto per i miei colleghi, che più del 30% del nostro cervello è dedicato alla visione. Quindi nella evoluzione, fino all'uomo moderno, la vista rappresenta il senso più importante. Allora Gradennigo, oltre alla parte di scritti che erano tipici del professore, cosa fa? Elabora una nuova strumentazione, elabora di per sé una nuova, porta a Padova, scusatemi, porta a Padova la tecnologia, chiamiamola del momento, che era tecnologia artigianale, se vogliamo. E quindi porta a Padova che cosa? Quella che è stata in quell'epoca la più importante scoperta per noi. Quella che fa un fisico, un fisico tedesco, il von Helmholtz, il quale sviluppa il cosiddetto oftalmoscopio. Il oftalmoscopio è lo strumento con cui gli oculisti a metà dell'Ottocento guardarono dentro l'occhio e videro la retina. Fino ad allora la retina era nero, cioè non si sapeva che c'era, perché se uno sezionava un occhio la vedeva, ma non la vedeva in vivo, la vede in vivo. È la prima volta che guardiamo qualcosa dentro il nostro corpo. È doppio il fenomeno, triplo potrei dire. Primo, l'oculista vede dentro, quindi l'oculista può fare delle altre diagnosi. Secondo, con quel vecchio detto popolare che l'occhio è una finestra sull'anima, in realtà è una finestra su tante cose che succedono dentro il corpo, come succede tuttora. E quindi in questo caso lui è quello che introduce, porta a Padova, se vogliamo, l'oftalmoscopio di Helmholtz e lo diffonde, fa l'insegnamento e porta gli strumenti. Riorganizza la clinica oculistica nata non tantissimo tempo prima, oggi in realtà celebriamo quest'anno i 200 anni della fondazione della clinica intesa come tale, cioè di un reparto a sé di insegnamento. Ricordo che quando io mi sono dedicato, ero più giovane a questo argomento, scoprì per esempio che l'ospedale universitario chiudeva l'estate, perché non c'erano gli studenti. L'anno scolastico, chiamiamolo, aveva la pausa estiva, quindi anche le strutture universitarie e anche cliniche chiudevano. Gradenigo aumenta molto la dotazione dei letti, che naturalmente erano quelli che servivano per seguire e curare i pazienti, organizza anche il sistema delle sale operatorie, cioè rende il tutto efficiente e in assoluta parità a quello che succedeva, vorrei dire, nelle altre, non solo antiche sedi universitarie, ma nelle capitali del mondo di allora, torno a dire siamo alla fine dell'Ottocento, quindi Parigi, Londra, Vienna, chiaramente le più importanti d'Europa. E quindi ha delle idee, ha delle idee pratiche e quindi fa costruire qui a Padova dei piccolissimi strumenti per misurare caratteristiche dell'occhio che in realtà oggi non consideriamo più logiche o sensate, perché volendo farle lo facciamo in altri metodi, ma fa fare un termometro per misurare la temperatura dell'occhio per esempio, costituisce o fa costruire un occhiale in cui oggi siamo abituati con le lenti, sappiamo che la presbiopia è quel difetto che interviene con l'età e non ci fa leggere da vicino, in realtà poi noi abbiamo degli occhiali che noi chiamiamo progressivi oggi in cui tu riesci a vedere se hai un difetto da lontano e la lente cambia da vicino, ma lui fece costruire un occhiale in cui si potevano spostare i sistemi di lenti per far vedere anche in questo modo. E poi ideò alcuni interventi chirurgici, uno che è descritto anche nei più importanti volumi che parlando di storia, addirittura delle subspecialità dell'oftemologia, parla del trapianto della cornea. La cornea è quella parte trasparente anteriore dell'occhio la quale costituisce il primo trapianto che fu fatto in un soggetto umano chiaramente, perché ha delle peculiarità anatomiche e fisiologiche che permettono che questo trapianto non rigetti, nella stragrande maggioranza dei casi, e quindi tutta la problematica che c'è con i trapianti non c'era allora e non c'è neanche adesso. E lui cosa fa? Fa una cosa che ci dà un po' fastidio oggi. Fa quello che chiamiamo un trapianto eterologo. Infatti uno dei suoi scritti più importanti è il trapianto della cornea di pollo su un occhio umano. Per permettere a un soggetto, allora era molto facile che la cornea si opacasse, quindi il soggetto rimanesse cieco praticamente, si inizia questa trapianti con una cornea eterologa. Il suo scritto in realtà non ci racconta come è finita la storia di questo trapianto, ma indubbiamente Pietro Gradenivo apre una nuova strada. E torno a dire, i volumi che si occupano della storia della cornea e della storia del trapianto di cornea ricordano pressoché tutti il lavoro pionieristico che fece questo uomo. Ecco direi che questo è il valore. Poi il valore di un cosiddetto maestro è anche quello di saper vedere nelle persone che gli stanno intorno degli allievi, gli allievi più brillanti se vogliamo. Il suo successore quando lui morre nel 1904 è un personaggio importante della storia dell'oftalmologia e che ha un rilievo particolare anche per l'oftalmologia patavina nella storia e anche in tanti altri momenti che abbiamo celebrato per esempio lo scorso anno, ma non è un padovano di origine, è un piemontese di origine. Invece il successore di questo, Giuseppe Ovio, che era un friulano, era un diretto allievo del Gradenigo e portò avanti infatti in maniera molto attenta tutte le idee che aveva elaborato possiamo dire il suo maestro e si dedicò anche, poi andò a dirigere la più grande, non ho detto la più importante, ho detto la più grande clinica oculistica del momento che era quella dell'Università di Roma e scrisse anche molti importanti lavori sulla storia dell'oftalmologia, ricordando è lui infatti che raccoglie, al pensionamento del Gradenigo, insieme a un altro allievo gli scritti del maestro facendone un volume a parte che è ancora conservato in alcune biblioteche patavine. Rispetto alla descrizione che abbiamo fatto sin qui, quello che ho in mano è il termometro oculare di ideatro da Pietro Gradenigo. Qui vedete che, a differenza di un termometro che viene in mente qualsiasi, è uno strumentino fatto in maniera un po' strana. Questo potrebbe ricordare, diciamo, lo strumento verticale, orizzontale, come lo si mette, di un termometro che dopo un tempo è a Mercurio, adesso ho scoperto recentemente che non possono più neanche essere a Mercurio perché il Mercurio è velenoso. Ma poi vedete l'idea dell'uomo. Questo termometro in realtà ha tutta una porzione che è una porzione semicircolare, se vogliamo, dove è contenuto il Mercurio, perché è la parte che deve rilevare la temperatura. E uno dice, ma perché è fatto così? Perché è stato ideato e quindi doveva essere poi, diciamo, artigianalmente fuso in questo modo? Ma perché se uno pensa e ricorda l'anatomia, questo quando viene infilato nel cosiddetto fornice inferiore, cioè tra il bulbo oculare e la palpebra, è esattamente la forma del fornice. Quindi una piccola goccia di anestetico permetteva al gradenigo o ai suoi allievi di infilare lo strumento nel fornice congiuntivale e lungo l'astina verticale poteva andare a leggere la temperatura dell'interno dell'occhio, perché allora, diciamo, la medicina era, forse più che adesso, molto attenta a piccoli particolari. Era l'epoca in cui si andavano a studiare, era l'epoca in cui era cominciata l'auscultazione del cuore, quella dei polmoni, quindi si andava alla ricerca di segni fisici delle malattie e quindi il gradenigo sviluppa la possibilità di misurare la temperatura. Non credo che questo, non questo termometro in sé, ma che questa pratica sia mai uscita dall'ambiente patadino. Qui invece abbiamo due o tre strumenti, direi, tre vorrei dire, tre delle idee del gradenigo. Una non è un'idea solo sua, quindi andiamo più veloci, ed è uno strumento con il quale andiamo a misurare la pressione oculare. Infatti ci sono anche dei pesetti al fianco, quella che noi chiamiamo tecnicamente la tonometria, la pressione dell'occhio. Questo è un parametro ancora oggi molto importante, ma mentre fino a, direi, una quindicina di anni fa, bisognava comunque, non dico questo certamente, ma un'evoluzione di questo, andare a mettere un, fisicamente, un dinamometro. C'è un sistema di misurazione della forza, perché il bulbo oculare sta in tono, perché ha un tono, altrimenti si affloscierebbe chiaramente. Allora, la pressione dell'occhio è ancora oggi un parametro, invece fondamentale, la temperatura no, un parametro fondamentale nella clinica delle malattie dell'occhio, perché la sua variazione è sintomo di una particolare forma o malattia rilevante. Insieme a questo, ecco, quel strano montatura di occhiali, questa strana montatura di occhiali, che se guardiamo di profilo, in realtà, possiamo osservare che porta un occhiale nella parte posteriore e può mettere delle lenti in mezzo nella parte anteriore. Posizione delle lenti che può essere variata e che quindi, quando un soggetto guarda lontano, possono essere anche neutre o nulla. Quando guarda da vicino vengono inserite delle lenti e il soggetto l'esposta a seconda delle distanze. Ma non mi dice perché a seconda delle distanze. Io so che gli occhiali da vicino, dice, sono occhiali che hanno una distanza fissa. Corretto, se tu li usi per leggere. Ma se tu, per esempio, suoni, musica, lo spartito non è alla distanza a cui tu leggi un libro o un giornale. O se tu dipingi, per esempio, anche la tavolozza in genere non è messa alla distanza né del libro né dello spartito, oggi diremmo all'istanza dello schermo del nostro computer, non è quella a cui leggiamo. L'idea di Gradenigo di avere la possibilità di, spostando la lente in quella montatura, di variare il fuoco a cui uno lavorava, era un'idea brillante. Terza cosa, stranissima e bruttissima, se uno dice. Vedete, Gradenigo è infatti ricordato per un'altra cosa, che no, non è che stavo dimenticando, è molto particolare. Uno potrebbe inorridire di fronte a questa cosa qua, perché sembra una cosa dell'horror quasi. Ma all'epoca le principali malattie che portavano alla cecità erano quelle che davano l'opacamento completo di quella parte trasparente che prima ho accennato si chiama cornea. La cornea è una stessa di lente che abbiamo dentro l'occhio, che per sua natura è trasparente. Tutto l'occhio fino alla retina dentro è trasparente, perché l'unica importanza di questi elementi è solo quella di mettere a fuoco, come una macchina fotografica. Adesso le macchine sono un'altra cosa, in un tempo quando c'è la pellicola, o comunque ancora oggi, la parte che imprime l'immagine è la parte fondamentale, il resto è solo un sistema ottico, l'occhio è uguale in questo senso. Allora, se tutto era cieco, se l'immagine non entrava perché la luce non passava, c'era presa di questa presa di tenda bianca, allora, guarda, io avevo un'idea, che potrebbe essere venuta anche ad altri in realtà, così concettualmente, buco la cornea, buco la cornea, perché se il resto dietro è trasparente, io non so se il cristallino è trasparente, allora lui buca la cornea, sì, ma non è che lascia aperto il buco, perché ci sono due possibilità, i tessuti che ci sono dietro chiudono il buco, quindi il risultato è zero, oppure i liquidi che escono fuori portano alla distruzione dell'occhio. Allora ci metteva dentro questa cosa qui, una specie di palloncino che, allo psifero si chiamava, che andava inserito come una cannetta dentro l'occhio e davanti era tutto trasparente e quindi attraverso un piccolo pertugio uno poteva vedere. Voi mi direte, sì, ma insomma è una cosa proprio così, tra l'horror e la storia, non è vero, esiste un importante intervento che si fa, e si fa piuttosto raramente, è un intervento estremamente complesso, che fu ideato da un famoso, ancora una volta, opulista italiano, in realtà del metà del Novecento, in cui quando la cornea è completamente bianca, completamente, e quindi il soggetto è cieco per questo, ma uno dice io impianto, faccio un trappianto della cornea, non è possibile, quella cornea è completamente conglobata da chissà quale membrana, se io facessi un buco e ci mettessi una cornea nuova diventa bianca nello spazio di poche settimane, perché ormai l'organismo non lo accetta più, allora esiste un intervento così di salvataggio, lo chiama qualcuno, uno prende un dente di quel soggetto, lo prepara in maniera direi odontoiatrica, come che il dente costituisce solo una torre, una piccola torre, riempie l'interno di una sostanza plastica che poi si indurisce e impianta il dente al centro della cornea, odonto, keratoprotesi si chiama, funziona, cioè c'è gente al mondo che vede perché questa cosa qui, ed è un po' il portato di quella che era stata l'idea originale di gradenigo, ancora fino a 30 anni fa circa, per esempio quel gel che abbiamo dentro l'occhio che si chiama vitreo o humor vitreo, che costituisce la maggior parte del volume interno dell'occhio, era una vera sacra, si poteva toccare, faceva parte del mito e invece gradenigo aveva pensato sempre con quello stesso strumentino che in realtà se per caso era il vitreo, la componente opaca, perché il vitreo sta davanti alla retina, questa poteva essere in qualche modo rimossa e lui lo faceva attraverso una cannuccia che inseriva, che aspirava, a quel punto l'occhio chiaramente si afflosciava, poi lo sostituiva con una specie di soluzione fisiologica, diciamo, e ridava tono all'occhio. Beh, in sostanza noi lo facciamo con strumenti estremamente più sofisticati, di diametri che non si possono vedere se non sotto il microscopio, ma in realtà facciamo la sostituzione del vitreo secondo quella che era stata l'idea dell'oculista artigiano, lo chiamo io, cioè di Pietro gradenigo. Pietro gradenigo ha un altro merito, se vogliamo, di aver continuato e soprattutto attualizzato metodologie di tipo didattico, perché esisteva la necessità di insegnare ai studenti o ai medici già formati, quelle che erano le malattie oculari che non vedevano perché il numero di casi era più limitato. Allora già in precedenza Padova ha avuto la fortuna, essendo la seconda scuola di medicina dell'impero, perché naturalmente siccome era l'impero austongarico, la prima non poteva che essere Vienna, la quale aveva fatto fare, se uno ha l'occasione di andare a Vienna, in quello che è molto interessante perché era l'istituto di perfezionamento dei chirurghi militari, Josephinum si chiama, oggi è museo di storia della medicina e c'è la più grande raccolta di ceroplastica al mondo. L'intero corpo umano nelle diverse componenti e nei diversi strati è rappresentato in cera, come alcune altre componenti dei soggetti, ma lì è conservata una raccolta di cui esiste la identica copia fatta nello stesso momento perché il ceroplasta ne produceva due copie, una per Vienna e una per Padova, di cui per esempio vedete alcune immagini, potete vedere in questo libretto, che mi accompagna da moltissimi anni ormai, erano immagini, sono delle cornicette con delle mezze facce dove c'è l'occhio con la sua particolare malattia. Allora queste sono un certo numero, sono conservate qui, poi non vennero più fatte e Gradenigo, che aveva dentro la clinica questa cosa qui naturalmente, pensò di farne una serie, che esistono ancora ma sono nascoste, uno e non mai completamente pubblicate, sugli interventi chirurgici, in particolare sugli interventi chirurgici delle palpebre. Queste cere riproducono le tappe dell'intervento e il prima e dopo dell'intervento stesso. Era la moderna, attuale allora, didattica che riguardava le malattie oculari, siano esse solo dell'occhio stesso, come avevano fatto tutte le cere presenti, o da un punto di vista di evoluzione chirurgica. Ecco, anche in questo testimonia la inventività, se vogliamo, la cultura, il desiderio di insegnare e anche l'uomo artigiano, perché si affida in questo caso a un ceroplasta padovano per farsi fare quello che lui voleva fossero poi le immagini o le cere che faceva vedere agli studenti.